Ancora tardi anche per la giornata odierna di alcune corse balneari nei collegamenti acqui lagunari a Venezia e con il Lido. Proteste vibranti ai pontili e in qualche caso tensione. Purtroppo non sono mancati. La situazione riguarda per la maggior parte i servizi aggiuntivi e straordinari per il periodo estivo. Ma questa situazione si protrae da diversi giorni e non rappresenta più un solo caso isolato. Il periodo estivo è da sempre in quello in cui l'intero sistema di trasporto va spesso sotto pressione. A pesare, quest'anno in particolare, c'è la carenza di personale, in particolare chi è preposto al comando nella navigazione, ma anche tra i conducenti di autobus. A CTV ha annunciato che, su indicazione dell'amministrazione comunale, è in fase di studio una riorganizzazione del servizio che consente di affrontare meglio queste criticità e che verrà presentato ufficialmente entro pochi giorni.